il 338 17 19 105 per chiamarci 0376 63 17 09 mail alla diretta chiocciolatemporadio.it e poi ovviamente c'è la pagina facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, dunque sindaco, tante manifestazioni perché veramente è stato un pozzolingo teatro capace di intrattenere un po' tutti appunto durante questo estate. Da fine giugno fino a domenica scorsa, tutte le settimane vi è stata una manifestazione, siamo partiti con Polisportiva, con la festa dell'ospite, quindi fatta al centro sportivo per poi susseguirsi con tutte le altre manifestazioni, dalla festa della birra, canta a palio, la serata con Regis, la gara di bocce, il calcetto a 5 delle contrade, beach volley, non dimentichiamo il palio, il degustibus, dopo musica in castello, quindi il concerto in castello e abbiamo terminato domenica, sabato e domenica con questo weekend dedicato non ai motori ma alle corse, visto che era la carrettata che è dedicata appunto a quei prototipi oppure quei carrettini fatti senza costruiti in maniera artigianale, senza motore, sono scesi dalla di scena del castello proprio lì adiacente al parco Don Giussani, anche lì, anche in questa occasione, quindi grande pubblico, grande partecipazione, quindi da questi microfoni, come si suol dire, voglio ringraziare tutti e quando dico tutti, tutti, tutti i volontari, tutte le associazioni che hanno collaborato, hanno lavorato e hanno sudato, perché è stata un'estate calda, quindi è giusto dire che hanno sudato nel vero e proprio senso della parola, hanno sudato per realizzare tutte le manifestazioni e per dare la possibilità a tutti noi di vivere in maniera gioiosa queste manifestazioni, quindi credo che, diciamo così, tutto sommato il conto economico non tanto monetario ma delle manifestazioni, della durata, della partecipazione credo che sia un saldo positivo e lo guardiamo con grande soddisfazione e ancora una volta grazie a tutti. Una cosa, quindi si scende praticamente quella discesa che va giù verso il distributore, esatto, ma fate una deroga per il multavelox? No, no, quello è più avanti, no, no, c'erano il sabato pomeriggio, sabato sera per le prove una trentina di equipaggi e mentre la domenica per la gara vera e propria una quarantina di equipaggi, quindi che provenivano da tutto il nord Italia, quindi anche non solo dalla Lombardia, non solo dalla provincia di Brescia, ma anche da altre province e da altre regioni, quindi credo che sia del tutto positivo e quindi ringraziamo ancora una volta tutti coloro che hanno lavorato per questo, tutto fatto in sicurezza perché erano presenti tutte le norme in sicurezza, quindi tutto si è svolto senza incidenti, senza grossi incidenti, anche perché ogni tanto qualcuno sbandava, però non c'è stato nulla di che. Ma quindi tra l'altro appunto, questo diciamolo perché magari ci sono gli imitatori, non si improvvisano queste cose, assolutamente, cioè è una festa, è un gioco, era presente l'ambulanza, le strade erano chiuse, i mezzi su cui gli atleti si sono cimentati, erano mezzi anche sotto un punto di vista della sicurezza dotati di alcuni dispositivi, erano vestiti con tuta, casco e quant'altro, quindi era tutto diciamo così all'interno di un controllo importante. Quindi appunto fatto con estrema serietà. Ma una curiosità, che cosa secondo lei, che tra l'altro poi si intende anche di queste cose, sappiamo, che cosa condiziona la vittoria di un equipaggio, anziché la bravura del pilota o l'aerodinamica del mezzo, il cuscito sfero utilizzato? Qua c'erano due sezioni, c'era naturalmente per il miglior equipaggiamento, quindi quello che era il miglior carretto, piuttosto che il miglior prototipo e poi vabbè c'era anche la gara appunto di velocità in base alle tempistiche e su questo non si può andare a discutere. Naturalmente al di là, naturalmente deve esserci la confidenza da parte del pilota che guida il mezzo, ma sicuramente anche la fattura del mezzo ha una grande importanza, perché come dicevi tu, se si usano cuscinetti di un certo tipo, se c'è la ruota fatta in una maniera piuttosto che nell'altra, ma al di là di tutto, al di là della ricerca della vittoria, al di là della ricerca della velocità, ho visto, come nelle altre edizioni, anche questa edizione, una grande voglia di stare insieme, di essere in compagnia e di confrontarsi da un punto di vista goliardico, non tanto proprio alla ricerca spasmodica della prestazione o della velocità, c'era proprio la volontà e la gioia di ritrovarsi e confrontarsi e mostrare l'ultima modifica che ho fatto, ma quest'anno mi sono preso la macchinina nuova, ma ho cambiato la ruota, ecco, era tutto questo scenario che ha reso ancora più positiva la manifestazione, ancora più positiva la manifestazione. Qualcosa di bello obiettivamente, e poi come ha detto lei, è soprattutto un modo per stare insieme a questo, perché tra l'altro per Pozzolengo che è un comune turistico, questo è, abbiamo detto, il lavoro, perché proprio in questo modo si tirano turisti, visitatori, quindi si fanno lavorare le attività. Fate conto che circa 40 equipaggi, al di là che qualcuno corre da solo, altri sono in coppia, però hanno tutti al seguito famiglia, amici, quindi c'era veramente una grande partecipazione di persone, che ripeto, con la grande voglia e capacità di stare insieme e di divertirsi. Stavo guardando alcune domande che le stanno arrivando, c'è un sindaco, che belle le manifestazioni quest'estate, siamo venuti a Desenzano più volte, bravi, dice Enrico, esatto. Continuate a venire. I vostri vicini sono venuti. Poi, ancora, protesto, a proposito, se avete che ci ha sentito prima, per il multavelox vicino al distributore la discesa ti fa andare veloce se ti distrae. Però il punto, Alex, è che non ci si può distrarre al volante, il punto è proprio questo. L'autovelox vicino al distributore, ci sono più incroci, c'è una rotatoria, ti distrai, e non bisogna distrarsi. Non bisogna distrarsi. I 50-60 all'ora sono già molti. Le macchine hanno... Perché ci sono incroci, c'è l'entrata e l'uscita del distributore, c'è la rotatoria, e qualcuno molte volte va anche diritto su quella rotatoria, come su altre. Poi, oltretutto, è centroabitato. Sì, sì, è centroabitato a tutti gli effetti. Benvenga l'attenzione. Esatto, quindi le macchine comunque sono dotate di cambio per scalare le marce e di freni, quindi usali e di sterzo. Esatto, non hanno avuto problemi di sterzo. No, qualche sbandata, però l'ho stato tutto bene. Ok, però comunque sono andati dritti alla fin fine. Allora, dunque, stavo guardando, c'è una domanda mi pare per la scuola, vediamo se glielo trovo. Allora, parliamo di ingresso a scuola e di vaccinazioni. Fare informazioni e non mettere paura, Davide. Va bene, allora, a parte Davide non è nostro, già ne stanno parlando fin troppo i media nazionali di vaccinazioni. Già, già c'è chi estremizza da una parte e chi estremizza dall'altra. E dopo tutti dobbiamo comprendere che ci sono due popoli. Un popolo maggioritario, maggioritario che giustamente ha vaccinato i propri figli e pretende che questi figli siano in sicurezza. E c'è un popolo, tra virgolette, minoritario che non ha vaccinato, non intende vaccinare o vuol capire di più. Credo che alla base di tutto ci sia la corretta informazione. Noi sindaci quello che possiamo fare è andare ad agevolare l'informazione, perché noi contro la legge non possiamo andare, non possiamo né cambiarla né ovviare alla legge, come ho già detto. E come ho detto anche ad alcuni genitori che ho ricevuto, la scuola non può, non può rifiutare i bimbi. Non li può rifiutare, tanto per essere chiari. Dopodiché, in questo tempo ci sono le varie autocertificazioni per chi ha fatto le vaccinazioni e per chi intende prendere un percorso informativo tramite l'ASLA. Cura nostra sarà trovare una serata in concomitanza e concordando con la direzione didattica per informare tutti coloro che vorranno essere informati. Questo è quanto. Dopodiché, di disquisizioni scientifiche, tecniche e mediche, ahimè non ne sono titolato innanzitutto e poi non è il mio compito. Certo, certamente, infatti nessuno l'ha preteso di fare, però intanto comunque il Comune ha approvato già da un mese o di più il piano. Sì, abbiamo approvato il piano di tutto lo studio, assistenza a persona, tra le altre cose lunedì 4, lunedì 4 settembre alle 20.30, 20.45 presso l'auditorium delle scuole medie, ci troveremo con tutti i genitori, abbiamo indetto una riunione per spiegare tutti i servizi e sarà l'occasione anche per fare due parole su tutto quello che loro avranno da chiedere. L'amministrazione comunale ha ricevuto, come ripeto, riagganciandomi al discorso vaccini, ha ricevuto una delegazione di genitori preoccupati per questo tipo di intervento, abbiamo discusso, tra le altre cose ho già preso contatti sia con ATS quanto con la direzione didattica per promuovere una serata informativa. E naturalmente, quello che dico, il sostegno alle famiglie nel momento in cui ci fossero problemi dimostrati di gravità per quanto riguarda le vaccinazioni. Questo è quello che possiamo e dobbiamo fare noi sindaci. Benissimo. Poi per fortuna oggi stavo pensando, gli aghi sono molto meno invasivi di un tempo. Non so chi ha fatto in tempo ad usare, a subire. Io ho fatto in tempo a subire. Qualcuno vuole entrare in protezione civile. Allora, sindaco, la protezione civile bisogna figurare di che tipo. Io sono speleologo, dice Nicola. Allora, ce n'era anche un altro di messaggio sulla protezione civile. Vediamo se lo trovo. Vediamo. Paglio della pasta super bellissima. Adesso andiamo a vedere. Però ce n'era... Ecco qua. Per la protezione civile possono venire anche da fuori paese, età minima, grazie a Ennio di Solferino. Allora, protezione civile di Pozzolengo è composta di due sezioni. C'è la sezione cadetti, quindi anche ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni possono tranquillamente, 15, 16, 17, fino ai 18 anni, possono entrare nella sezione cadetti. E poi, oltre i 18 anni, c'è la protezione civile vera e propria. Tutti possono entrare, sia di Pozzolengo che non di Pozzolengo. Non c'è nessuna limitazione e non c'è nessun veto. Anzi, benvenga. Vi aspetto, vi aspetto numerosi. Prendete contatto sia con il sottoscritto quanto con la polizia locale, con il comandante Massimiliano di Casa Massimi. Benissimo. La porta è aperta a tutti. E abbiamo appunto aperto queste due sezioni. Una per i cadetti fino ai 18 anni, oltre ai 18 anni la protezione civile vera e propria. Lo speleologo benvenga. Sicuramente è una figura importante, anche perché molte volte la protezione civile non entra in campo solo quando ci sono delle emergenze, diciamo così, meteorologiche o disastri o quant'altro, inondazioni. La protezione civile entra in campo anche nel momento in cui ci sono delle necessità anche per ritrovare delle persone, per ricercare alcuni punti. Viene chiesta anche l'intervento e l'ausilio della protezione civile. Abbiamo partecipato più volte alla ricerca di persone disperse sui vari territori. Poi, io insisto, dice Stefano, dovrebbe aprire un campo per traino agli anti e decollo ultraleggeri, ma sa quanti turisti farebbe venire? Traino agli anti? Ma è male. Eh, ma vicino a noi c'è già le panizze, c'è già circa in linea d'aria 5-6 chilometri. Però sa che l'aria di Pozzolengo è migliore. Sì, sì, però ripeto, ci sono dei requisiti fondamentali importanti. Ci sono meno vuoti, ci sono... Noi abbiamo un territorio prettamente collinare, quindi trovare un 500 metri, almeno 500 metri di piani, di ritti, sgomberi da ogni tipo di cavi, non cavi, alberi, non alberi e quant'altro, a parte che oggi trovare 500 metri lineari, visto in Lugana cosa sta facendo, diventa difficile. Però guardi, sindaco, che quando l'aria colpisce una cima, viene deviata verso l'alto, in questo modo, lo dico da ex deltaplanista, riesce a stare in volo più a lungo. Riesce a stare in volo più a lungo. Sì, sì, questo è. Allora, sono un imprenditore, allora pare che porterò l'azienda a voi grazie al personale comune, competente, gentile e disponibile. Ah, ok. Mi aggancio a questa dell'imprenditore dove ancora per 15 giorni l'abbiamo pubblicato verso il 10 di agosto il bando per il tempo riuso, il riuso temporaneo di spazi all'interno del centro storico. Quindi tutti coloro che sono interessati possono visionare sul nostro sito del comune appunto spazio tempo riuso, visionare che spazi sono a disposizione, quali attività e possono partecipare a questo bando presentando domanda, andando a leggere tutti i requisiti che servono, tutto quello che serve. Quindi tutti, tutti possono aprire non solo i pozzolenghesi ma tutti, anzi, tutti sono i benvenuti per partecipare a questo bando. Allora, le leggo altri messaggi poi andiamo in pausa. Vorrei ringraziare i volontari di Pozzolengo e il sindaco Bellini per tutto. Grazie, un abbraccio da parte di Luisa. Il problema non è l'ago ma è contenuto. Beh, adesso vedo di capire... Sì, sul discorso dei vaccini hai fatto la battuta che gli aghi non sono più quelli di una volta ma il problema non è l'ago ma il contenuto. Ah, ho capito, grazie appunto. Il palio della pasta... Beh, è vero, è verissimo quello che ha detto l'ascoltatore o l'ascoltatrice assolutamente, era proprio a livello di battuta. Paglio della pasta, super bellissimo il nostro parco e il castello. Ciao a tutto Pozzolengo. Ciao. Poi ancora, a proposito delle vaccinazioni, ma c'è un altro messaggio per fare una cosa. Facciamo una pausa, rispondiamo durante la rubrica tocca. cos'è? Dice, quello che dice il popolo maggioritario se vaccina dovrebbe star tranquillo visto che ha vaccinato o no. Cioè, è una domanda anche che abbiamo posto anche a una persona che opera in campo sanitario, diciamo così, ma se i bambini sono vaccinati, che paura hanno di un bambino non vaccinato visto che sono protetti? La domanda era questa, fondamentalmente. Però, appunto, è un discorso tecnico. La domanda è un discorso molto tecnico, però io ho detto solo una cosa, che ci sono le ragioni da entrambe le parti. Come ci sono le ragioni di chi non vuole vaccinare, ci sono le ragioni di chi ha vaccinato e siamo in un paese democratico. C'è una legge che è stata fatta dallo Stato, vogliamo capirne di più, benvenga. Noi possiamo, possiamo, esortare tutti gli enti a comportarsi in questa maniera, informare di più e cercare un percorso coordinato e condiviso. Tutto qua. Benissimo. Fermiamoci un attimo, ringraziamo il sindaco Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo, ci troviamo nella rubrica Tocca a noi tra un paio di minuti.